bibica forza andiamo wow che cos'è questo? bip bip questo è un gatto bip bip wow della sabbia oi sa bip bip e ora una bella pulita bip bip cos'è questo? questo è un cane guardate che carino bip 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 oh questo è un criceto e sta mangiando una mela bip 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 andiamo oh un ponte brum 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 e questa? bip bip oh oh questa è una tartaruga oh 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 siamo arrivati bip bip ciao bibica oggi abbiamo incontrato un gatto un cane un cane un criceto e una tartaruga ciao ciao in